Un nubifragio si è abbattuto sulla parte centrale della Calabria. La pioggia e un forte vento hanno provocato danni e disagi soprattutto alla mezza terme dove tra l'altro un albero è finito su un'auto, la donna che era la guida è rimasta fortunatamente illesa. Il vento ha scoperchiato la palestra comunale Gatti e l'area di rifornimento di un distributore di carburante. Divelta anche una struttura all'interno del cortile dell'istituto per geometri fortunatamente vuoto per uno sciopero degli studenti. Numerosi gli alberi caduti e gli allagamenti che hanno provocato disagi alla circolazione. Anche la seduta del Consiglio Comunale è stata sospesa dopo che il vento ha provocato la rottura della chiusura di una finestra con conseguente infiltrazione di acqua nell'aula. Ha lagato anche un centro commerciale a causa di infiltrazioni dal tetto. A Catanzaro, sempre a causa del maltempo, sono caduti alcuni alberi.